Non è vandalismo, non è vandalismo, è senso di ribellione verso un sistema che io ti dimostro che tutto è possibile nella vita, l'importante è crederci non è che io voglio incidare a fare questo, perché questo è un show non è che questo è un show, quello che io ho nella mia testa non è che quello che io puoi fare tutti i giorni, ma quello che io ho nella testa è che per me è tutto possibile, perché la mia vita è uno show Stop! Nel bene o nel male, critiche comprese, perché chi me critica poi apprezzerà chi è la persona Sentimenti negativi, per la invidia, che ti faccio dire che cazzo combina la canzone che fai per film di Mosca mi dico faccio l'eccesso per rispondere su un cesso davvero per vento io mi faccio sparare dentro un cannone di quelli da circo BOOM! Sì, è un giro, è un giro, che la gente ti dico questo è un marco E' bello che ti stringo la mano e dici, ho, sei grande, hai vinto, tu sei grande, orto dio con il casco d'architoteica la foto mia massima pubblicità io promuovo me stesso io ti faccio e te lo giuro adesso farò fermare i major perché io le faccio cascare io le mando un fallimento te lo giuro le faccio fallire ma fa che tutti sappiano che oggi 300 prodi avevano conquistato se eravamo di più 5.000 fan sulla mia personale 5.000 fan su hotel 3.000 fan sull'altro hotel sono 5.000 fan sull'altro 5.000 fan sull'altro mi hanno aperto 6 pagine dei ragazzetti che io ne manco lo so 6 pagine a nome mio oh cos'è se mi piace se oggi metto un video e domani ho 6.000 clip se non so 6.000 sono 1.500 in un giorno in un giorno i 1.500 il giorno dopo sono 3.000 i 3.000 il giorno dopo dei video così vanno è normale se io faccio sempre ci vuole pure coraggio Davide per vincere se sempre stavo a pensare vabbè dai ragazzi ma perché dobbiamo fare la guerra ma famo la guerra ma con il problema c'è ma la guerra vinceva chi è più forte vinceva chi è più forte